Fu composta in occasione del decimo anniversario della rivoluzione d'ottobre, la fase finale decisiva della rivoluzione russa iniziata nel febbraio del 1917 e con il quale si segnò il crollo dell'impero russo e la conseguenziale staurazione della Repubblica Sovietica. Inserita nella suite per orchestra di varietà e diventata degli anni colonna sonora di celebri classici cinematografici della letteratura mondiale. tra cui il gatto pardo e Anna Karenina. Signore e signori, tratto dalla jet suite di Vindri Shostakovich, fase numero 2. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.